Il mio cuore piange per tutti i morti assiderati che esistono in questi giorni e pensare che ci sono le case di Dio che dovrebbero accogliere tutti questi poveri Cristi perché la casa di Dio è la casa del povero Cristo e se è chiusa per costoro che muoiono di freddo e sono ospitati sotto le metropolitane anziché nelle chiese che siano aperte e siano date finalmente a coloro a cui spetterebbe di diritto perché è in costoro che esiste realmente nel nostro mondo il povero Cristo vivo che è lasciato morire di freddo. Grazie